Simone Faggioli ha vinto la 65esima Coppa Selva di Fasano, seconda tappa dell'italiano super salita. Invece, Lorenzo e Leonardo Tano si sono aggiudicati il primo e secondo posto nel trofeo VIP. È stato questo il podio sancito al termine della gara di corsa automobilistica Fasano-Selva svolta ieri in Puglia. L'inno nazionale, eseguito in versione Dixieland dalla Jazz Band del maestro Minola Cirignola, ha dato l'avvio alla competizione su quattro ruote e l'inno è servito come buon auspicio per Simone Faggioli, il campione italiano in carica, che in questa occasione ha completato la sua prima dozzina di vittorie nella corsa alla selva. Il pilota fiorentino conquistò proprio in questa gara la sua prima vittoria assoluta in carriera e oggi, al volante della sua nuova Proto NP-01 motorizzata Jad 3 litri, ha totalizzato ben 12 vittorie messe in fila nella crono scalata fasanese. È il record assoluto nella storia di questa competizione, nata nel 1946, che la presidente della Ignazia Corse, Laura De Mola, ha voluto sottolineare, consegnando di persona a Faggioli la sua meritata Coppa Selva. La gara di domenica riunisce le più importanti sette crono scalate in campo nazionale. A rincorrere la vittoria in campionato si sono presentati perciò tutti gli sfidanti di Faggioli, a partire dal siracusano Luigi Fazzino e dal pilota di Marsala Francesco Conticelli, principali suoi inseguitori in classifica. Tra i due ha avuto la meglio quest'ultimo, classificatosi secondo a un distacco di 4 secondi e 23 da Faggioli. Fazzino ha invece concluso terzo, a 6 secondi e 19. Migliore dei piloti locali è stato Francesco Leogrande, al sedicesimo posto assoluto e vincitore della classe CN. Presenze d'alto livello nel paddock hanno ulteriormente attirato l'attenzione sulla competizione fasanese. Cesare Fiorio e Giancarlo Fisichella, abitué nella Formula 1 di alcuni anni fa, si sono nuovamente incrociati alla gara pugliese. Il primo ha voluto tornare alla specialità a lui convenzionale. L'altro ha ancora una volta risposto positivamente all'invito di Laura De Mola, presidente della Ignazia Corse, organizzatore dell'evento sportivo, tornando a svolgere il ruolo di apripista. Accanto a entrambi è nuovamente sceso a Fasano come ospite d'onore Ezio Baribbi, pilota bresciano quattro volte vincitore della Fasano Selva. Dal mondo della politica hanno assistito alla gara gli onorevoli Maurizio Gasparri e Mauro Dattis, mostratisi preparati appassionati del motorsport. Tanto che la presidente De Mola non ha mancato di proporre a entrambi la partecipazione in prima persona al trofeo VIP nella gara della prossima stagione.